Gianni Maragno, storico, nonché anche scrittore, regista da Matera, ha creato questo ponte ideale fra la Russia, la Basilicata, con la signora Petrova, quindi per realizzare mostre d'arte in Basilicata. Sì, un augurio che facciamo, che dopo che questa regione è stata conosciuta come Basilicata cost to cost, si possa anche fare un altro itinerario che è Basilicata Mount to Mount, dal Monte Vulture alla Tronico nel nome di un turismo termale, di un turismo che veda e coinvolga anche gli appassionati d'arte, gli artisti, tutto quello che gira intorno al mondo dell'arte e della bellezza, bellezza che certamente non manca a questa regione e che dobbiamo difendere a denti stretti.